54esima edizione da record per la pezzata e con il tradizionale piatto del pastore, cucinato a Prato Gentile per migliaia di visitatori provenienti non solo dal Molise, ma da regioni e province confinanti. Sono stati cucinati ben 900 kg di carne di agnello e 750 kg di carne di pecora per un piatto inimitabile, la cui ricetta si perde nella notte dei tempi. Era il piatto dei pastori della transumanza. Lungo gli antichi tratturi li nutriva a dovere per coprire decine di chilometri al giorno per portare le greggi a svernare in Puglia. Oggi la pezzata è un richiamo gastronomico ma anche turistico perché porta in alto Molise decine di migliaia di persone che poi tornano per visitare le nostre montagne e le nostre valli tra le più belle dell'Appennino centro-meridionale. Una tradizione portata avanti da comune Proloco di Capracotta che per preparare questo appuntamento lavorano mesi e mesi e nell'occasione il presidente della Proloco lancia un appello alla regione. Diamo una mano a chi porta avanti con enormi sacrifici una tradizione che oggi è diventata un'icona dell'immagine del nostro Molise. Il comune sostiene, qualsiasi amministrazione comunale ha sempre sostenuto la Proloco e le Proloco devono stare a fianco dei comuni. Questo è un invito che faccio a tutte le Proloco e a tutte le amministrazioni comunali perché insieme specialmente nei piccoli paesi solo in questo modo si riesce ad andare avanti. Poi per quanto riguarda la regione, per quanto riguarda queste manifestazioni, non voglio parlare solo della pezzata, per quanto riguarda le manifestazioni di grosso interesse che valicano, travalicano i confini regionali, dovrebbero mettere, finanziare che c'è la legge 13 che per l'appunto è quella che dovrebbe finanziare, aiutare queste grosse manifestazioni perché queste sono manifestazioni perché prima non dimentichiamo anche il fatto del prezzo, noi con una porzione riusciamo a far mangiare anche due, sono abbondantissime e la gente viene proprio perché ha anche la convenienza di poter venire a mangiare quei prodotti genuini. La regione dovrebbe rifinanziare quella legge dove potrebbero attingere i fondi appunto queste grosse manifestazioni, non parlo solo della pezzata. Poi una nota di merito che vorrei dire è un grosso ringraziamento a tutti i collaboratori ma in particolar modo alle decine e decine di ragazzi e di ragazzine che vengono e ci assicurano appunto che questo possa essere tramandato nel futuro.